Mancel, un'altra vittoria, ma non ottenete la città, quindi viste la prima round con Emiliano, questa volta con Senna, ma non città la città, quindi voglio sapere il tuo balancio alla fine della città. Sì, è stata una buona giornata, abbiamo dovuto lavorare molto forti per cercare il balancio, stavamo lavorando, e credo che una chance di vincere, non pensavo che questo succederebbe, ma abbiamo fatto alcuni cambiamenti all'interno e abbiamo migliorato con i bambini, ma infortunatamente per Emiliano, è stato troppo vicino, è stato troppo male, è stato troppo buon lucro, diciamo, quindi, sì, abbiamo bisogno di più consapevolezza per vincere la città, quindi dovremmo lavorare su questo. Probabilmente in qualificazione hai giocato una grande parte della città, perché i risultati in qualificazione sono molto importanti in questo tipo di traccia. Sì, il tuo il plan era funzionale, perché Senna ha avuto ciò più qualificazione, Emiliano dovrebbe essere stato di nuovo da, ma un piccolo errore in Sektor 2 costa un po' le vittorie, quindi è stato un'impelle per lui, con questa traccia è molto difficile di ottenere e noi stavamo che stavamo lavorare molto forte per provare a tornare a tornare l'ultima ma comunque è bello che vengono con Senna, ora vengono in Genc con un driver e vengono in Cremona con un altro driver ma grazie a tutti i staffi in Nantes che lavorano così forti con il materiale CPB, Paul, un bel lavoro potete essere soddisfatti di pensare alla prossima in Le Mans sì, se volete, questo è il nostro casa sì, ci stiamo spettando, sì, sicuramente vi vedete qui vi vedete qui grazie mille